La polizia ha fatto la multa usando una forma attiva, vada ad utilizzare una forma passiva che è estremamente particolare ed è per questo non è molto utilizzata ad esempio nel linguaggio parlato perché capovolge appunto completamente e stravolge la forma attiva in quanto la polizia diventa un complemento d'agente, cioè colui che agisce, che compie qualcosa ed è preceduta dalla preposizione por. La multa diventa soggetto e cosa ancora più particolare è che il participio passato che come sappiamo quando viene utilizzato con un verbo ausiliare non viene coniugato, in questo caso si coniuga per genere e numero. Quindi avremo eccia perché multa è femminile ed è singolare. Quindi la forma passiva va a stravolgere completamente la forma attiva. Esiste anche il se impersonale che si utilizza per esprimere delle idee generali in cui il soggetto non è definito ed è sempre in terza persona, quindi o singolare o plurale. Ed è una sorta diciamo di forma passiva che chiameremo tuttavia appunto forma impersonale che viene utilizzata per esprimere delle idee generiche, quindi non abbiamo dei complementi d'agente, quindi non andiamo ad utilizzare una forma passiva, ma una forma appunto che viene chiamata impersonale anche perché appunto c'è questo se, che esiste anche in italiano, si, che ha questo valore impersonale. Ad esempio, se alchilan motocicletta spara a visitare la isla, oppure se permette l'ingresso a un visitante alla ves, quindi si affittano motociclette per visitare l'isola, si permette l'ingresso ad un visitatore alla volta. Come abbiamo detto, ho passato sempre in terza persona, un singolare o plurale, viene utilizzato questo se impersonale, accompagnato appunto da un verbo alla terza persona che...